Che famosi Aspetta, vediamo quanta vita Ce l'hai il Super Spyglass? Che te l'ho messo nell'inventario Salute 242.000 Mannaccia, livello 78 E quant'ha? E quant'ha di torpore? E beh, 0 473.000 Quasi 500.000 Io non ho idea onestamente Se è tanto o poco Non so quanto ci voglio Però è figa sta Viverna Eh sì Una delle rare Viverna è molto potente E secondo te Quanto ci vuole per tamarla? Beh ce la potremmo tamare Per buttarla giù che ci vuole tanto tempo Però per fortuna Che c'è la mod, quella arma lì che ha il Barret Che ha una munizione Speciale, narcotizzata Esatto Super narcotica Che permette di buttare giù Un sacco e un sacco di torpore Adesso non l'ho testata per bene Ma tipo ho visto un 5000 sicuro Che lo buttavo giù Istantaneo 5000 Quindi questo non è niente Quindi quello Sì per quello lì Tipo ne serviranno Una ventina di colpi In circa Vediamo se mi da di nuovi dati Ne ha 475 mila Su 5000 E molti di più Ho sbaglio Sì sì Se si incazza Eh infatti se si incazza Qua sono danni Ci stira Ok bella questa moda Davvero molto carina Vediamo se c'è qualcos'altro Se arriva la viverna Ma dopo si incazza Eh la viverna è un po' Un po' pericoloso O sennò possiamo fare Che tu ti allontani E così si incazza con te E io guardo comodamente Di qua quanto Gli ha abbassato il torpore Che ne dici? Io so dove nascondermi Queste strutture Non si possono distruggere Ah ok Quindi Nessun dino Neanche wide Può distruggere Sperate che c'è buia anche Meglio così Anzi facciamo così La notiamo meglio Non so se La beccherò così Eh aspetta Tu ci sei? Mannascia Per il torpore Bisogna più mirarlo al centro 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 Ecco Sì Ok adesso si Però è anche ferma Quindi almeno Però se si muove 4 e 73 Ok Vai Beh intanto lo vedi Dopo lo vedi subito No Non l'ho preso Mannaccia No neanche questo Che mira Mannaccia Forse Forse se vieni dove sono io C'è una bella visuale Sai Ti devi mettere un po' più distante Però così poi becca pure me Ok Vieni dove sono io Che c'è un piccolo cucuzzolo Sei un pochettino più sollevato No no Sa che non ci arriva Ti tocca avvicinarti Auguri Devo avvicinare pure Scrivimi poi la cartolina Sì sì Oddio C'era proprio Avvicinare un metro Sì Ci sei? Ecco questa 2200 Mannaggia Sì 2261 Eh dipende Oddio Dipende anche dalla sua resistenza Eh mi sa che è tanto resistente Mannaggia che fiammazze rosse che dà Oh Cioè pratica Oh oh ma perché con me Ma non ti ho fatto niente Io nell'acqua Mi devo buttare nell'acqua Aiuto 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 Oddio Si è bloccato Lui Sto sparando Mannaggia Non è che c'è l'acqua Sì infatti Oddio sto già morendo No sono morto Mannaggia devo andare sott'acqua anch'io Non mi sono neanche colto Sott'acqua non ci può fare nulla no? Oddio no ma Io sono morto Tanto hai di vita Ok Qua non ci sono i piragni No no 67 Madonna Oddio Mi ha fatto prendere un colpo Pensavo a un piragno No in teoria non ci dovrebbero essere Non li vedo arrivare Che poi perché se l'è presa con me? Cosa c'entravo io? Bah Vale a capire stevi verde Perché non posso mangiare? Oddio Io si sto mangiando un sacco di frutta Ma io mi sa che sono mezzo baggato Non mangia la carne? Sarà vegetariano Ci mancava anche quello Oh è salito Adesso è a 15.000 Gli hai dato un secondo colpo? Sì mi ha dato più di uno Comunque il primo colpo è 2.600 Però che figa Eh Eh ti piace uno di quelli Poi è livello 78 C'è Una bestia Però è No veramente non mi cade nemmeno No ma che Ma che palle A meno che non l'attacchi Se l'attacchi si Ah quindi è pacifica di suo Che strano Chi c'è? No ci No in teoria ti attaccano Ci sono Animaletti Che cavolo sono questi? Ah ci sono i trovi Oddio no Mi ha mozz Perché mi ha mozzicato Mi ha dato un morso Oddio ecco ok Mi segue me Ok meno male Buttati nell'acqua L'altra volta ha funzionato Eh Va bene che facciamo? E se vuoi andiamo a vedere i tempi allora Non ci rimane altro che quella Per entrare invece nel tempio Si paga? Ah ok Ci vuole una pietra Si Si paga Ci vuole una pietra Ok questa qui cos'era? Desert Eagle? Si Si chiama Lost Temple Run Oh ma Dio Il Barlet Vediamo la Desert Eagle Eh non hai le munizioni Non hai le munizioni Ma mannaccia Non hai bisogno di craftarle Il Barlet è potentissimo L'arma migliore che c'è Ma doncina Si? Si Ho provato a stendere un dino Un bel calido Uccidere un dino c'è Eh vabbè ma dipende quale Si Giustamente dipende quale Quante me ne date? Nove Me ne date non solo nove Mannaggia che tirchio Johnny Aspetta Solo nove me ne date Vediamo un pochettino Un bronto quanto ci vuole Ecco laggiù c'è un bronto Dai facciamoci fuori il bronto La testa Arriva Madonna che rumore Ok un colpo L'ho preso Ok andiamo sul colpo va Due Ok Tre Quattro Maddoncina Quattro colpi Giù un bronto Di velo 18 Si sente anche da lontano Mamma mia Si 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 ero di là Nella porta Prenda le munizioni Poi non ha Non ha neanche Rinculo Dove sono? Grazie Mazza quante Oh 500 Possiamo fare una strage Vai Ecco Forte parisauro Cavolo Cioè mi ha fischiato la cuffia Ma è un altro Un colpo Ma non era per qua che c'era quello stronzo giallo che ci ha ammazzato un sacco di volte Dove è un'alfa è Quello è bastardo Un'alfa che ho preso Uh laggiù Eccolo No rosso era No lì ci sono quello che mi dicevi prima Chi? C'è quello lì con la spada Quello mino piccolino Ah ecco quello è un altro Non il minio Quello che hai visto il pupo Non si chiama No È più forte Molto più forte Intelligente Proviamo Vai Adesso non mi ricordo come si chiama Ah un orco è Un orco Ok un colpo gliel'ho dato Madonna 1900 A bocca resistenza Questo qui non Ti lancia anche le bombe Sì 1.9 ogni botta Madonna che roba Dipende dalla resistenza dei dino Che fa più danno Sì sì Però questo qua resiste Eh sì C'era che infine Più delle bronche Vedi Guarda quante incazzate Continua Dove sei tu? Sono dietro di te Eh Ok è andato Eccolo lì Minchia mi sento come quello del film del sniper Lì come si chiama Ah sì capito Sniper American Qualcosa del genere Eh vabbè Lo dobbiamo Prima far fuori E poi cosa trovo Una mia Pesce E anche la ricetta Uh la vivernetta Lo uccidiamo Ma sai che mi dispiace Uccidere la vivernetta No dai È troppo bella No ancora la gialla Lì c'è una Lì c'è un affare rosso Cos'è Un fioma Poi ho visto un affare blu Piccolino correre No la La vuoi addomesticare? Che cosa? La viverno lì Ma sì quasi quasi E' giusto per testare Che torpore ha? Aspetta che metto il binocchio Tanto questa non è aggressiva Lo posso addicinare No infatti 162 di livello Torpore 699 c'è 7000 Gli ha già dato un boccone E' uscita solo una lignettina Così minuscola Uh mannaccia Basta Sembra troppo poco Sì che è un livello 162 Però secondo Sì infatti Però secondo me il pesce Non gli va a genio Sai? Sì avevo calcolato La velocità Anche facendoli a mangiare No scusami Perché mi ha dato 102 di primit Dal peterodonte E solamente Una decina Dal bronto Non l'ho capita questa Ho usato la cetta Che mi hai dato tu Sì sì Via sto pesce Per la nostra viverna Solo il meglio 1.7 Beh guarda come Col primit E' salito un botto Secondo me era il pesce Che non era un cibo Cibo scarso Così va Così va già decisamente meglio Comunque quel bastardonne Dell'altra volta Non c'era No Se n'è andato Vuoi vedere ora Come uccidere istantaneamente Uno stego Tipo Con una sola pallotta Dove sei? Sono qua vicino a te Vai L'ha mancato? Seria? Quella in fuoco No l'hai preso Nella pancia L'hai mancato? No l'avevo preso Nella pancia Gli ha attraversato Ok Adesso ci siamo Ah preso il fuoco Un po' in ritardo Guarda Continua a prendere fuoco Con una sola pallotta Sì sì Da un po' muore Che figo Continua e continua Vai nell'acqua Bravo Scappa E se va nell'acqua? No non si spegne Mizzica Proprio da bastarda Sta pallottola Ok Dov'è la viverna Laggiù Se no ci vogliono Un po' di narcotici Credo che alcuni Ce li abbiamo in casa Sì vado a prenderli Sì Va bene C'è nella Non so se ti ricordi Di piano sopra Che c'è la cassa Devo scritto a narcotici Sì Allora Vediamo un pochettino le scale Saliamo al piano superiore Sì ok Ci sono al piano superiore Aspetta Una cassa Dove? Una cassa C'è una Eccola qua Sì 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 Trova Quanti ne prendo? 94 Via Esatto Lì sempre solo Non facciamo i tirchi Se lo stesso piano C'è il jumper Allora Vediamo un pochettino Eccolo qua Ah ok Oh Madoncina sei veloce Allora eccoti lì Premi spazio Sì sì è comodo Madoncina sei veloce Per scendere invece Per scendere Vabbè Inclini la visuale E poi quando sei a terra Inclini così Premi la X Allora Li metto dentro la viverna Poi Vedi te se Sì sì E un 20 minuti Tu ti li vorrà Più o meno Sì sì Allora Qui la carne Credo che sia sufficiente Ma sì Secondo me Qualche narcotica Gli è stata dato Prima ti dico 5.800 Sta ancora salendo Sì Vai Andiamo a vedere Sì Questo qua D'Antoncina si sveglia Cazzo si Si mette Ma dai Come cazzo gira Ma dai che figata Giri il mouse E questa qua gira così E se mi investo il petero No Dov'è Tu invece No una visuale Un po' mezza Bagata Ma dai che figo Va anche all'indietro No Che figata Allora dimmi un po' Dov'è che bisogna andare Sì sì L'ho messo Allora Ecco vai sempre dritto Verso quello obelisco rosso Sì Nell'obelisco rosso C'è il vulcano E dopo il vulcano Sempre dritto C'è la zona oscura La zona del male La zona dei morti Iscriviti al canale Grazie.